E ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Io sono Mr. Mario e oggi siamo qui sulla Chubby Bunny Challenge Come non sparassi il coppia Va bene ragazzi, questa Chubby Bunny la faccio per non sponsorizzare Vabbè, lasciamo stare E iniziamo la Chubby Bunny Challenge Mi scassa più tutto Vabbè Dammi i bagni E' un genio Vabbè 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 Chubby Bunny Vabbè 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 mi sono spolkato abitorni abitorni basta perché sennò finisco c'è questo proprio se è un video corto però c'è solo il tempo di fare la zombie bunny challenge perché non l'ho mai fatta però è una cosa c'è fighissimo però dopo un po che inizia a digitare marshmallow ti inizia a venire sul vomito otto il mio massimo otto il mio massimo per adesso va bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci rivediamo ad un prossimo video ciao ragazzi ma quasi quasi un altro non lo voglio grazie 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 grazie